Nome. Marta Nedle. Soprannome. La vedova nera di Richmond. Numero vittime. 5. Modus operandi. Avvelenamento. Marta Nedle è nata il 9 aprile 1863 in Australia. Donna attraente di indole gentile, crebbe in un ambiente familiare violento e aggressivo, e iniziò a mostrare segni di instabilità mentale sin dalla giovane età. A 17 anni sposò Henry Nedle e nel 1882 ebbe una figlia, Mabel, seguita da Elsie nel 1883 e da Maine nel settembre 1886. È il 23 febbraio 1885. La piccola Mabel muore dopo una breve malattia. Marta disse che sembrava stesse svanendo. Marta ottenne in seguito 100 dollari come risarcimento per la morte di Mabel. Henry, che era assicurato per 200 dollari australiani, morì per una malattia sconosciuta il 4 ottobre 1889, seguito da Elsie nel 1890 e da Maine più tardi lo stesso anno. I medici erano confusi. Marta spese tutto il ricavato dei risarcimento per una raffinata tomba di famiglia che visitava regolarmente. Luis Juncken, un amico della famiglia della donna, gestiva una selleria con il fratello Otto, a Richmond e nel 1891 Marta subaffitò l'appartamento vicino. Marta iniziò una relazione con Otto nel 1893 ma Luis e l'altro fratello Herman non erano d'accordo e provarono ad ostacolare la loro relazione. L'anno successivo Luis si ammalò e morì apparentemente per febbre tifoide. Nel giugno 1894 Herman viaggiò a Richmond per gestire gli ultimi affari del fratello, pranzò a casa di Marta e si ammalò quasi subito. Si riprese ma si ammalò nuovamente il mattino successivo dopo aver fatto colazione. Due giorni dopo Herman si riprese completamente ma mentre faceva colazione, preparata da Marta, fu colpito da violenti crampi. Il Dr. Boyd curò Herman per sospetto avvelenamento e inviò un campione del suo vomito ai laboratori del governo per delle analisi. Gli analisti riportarono che il campione conteneva arsenico. Il Dr. Boyd informò la polizia dei suoi sospetti e fu preparata una trappola, la polizia disse a Herman di chiedere a Marta di preparargli il pranzo. Dopo essersi fatto portare una tazza di tè, Herman usò un fischietto, chiamò la polizia che arrivò mentre Marta stava lottando con Herman per rovesciare la tazza, che si scoprì contenere sufficiente arsenico da uccidere cinque persone. Marta fu accusata di tentato omicidio. Il corpo di Louise Juncken, sepolto, fu riesumato e dei campioni mandati ad essere analizzati. Furono riesumati anche i corpi di Anne Edle e delle tre ragazze. Tutti e cinque i corpi contenevano arsenico. Il processo durò tre giorni, Marta si dichiarò non colpevole ma fu giudicata colpevole e condannata a morte. Fu giustiziata alle otto del 22 ottobre 1894. Quando le chiesero quali furono le sue ultime parole, Impassibile rispose Non ho nulla da dire